Buongiorno amici, buongiorno a tutti. Buongiorno amici, oggi sono pronto per un'altra avventura. Destinazione Montebello-Sussangro, provincia di Chieti, il paese che una volta era chiamato Buonanotte. Buonanotte esiste ancora, è un paese disabitato, fatiscente, ed è proprio questo paese che io andrò a visitare. E poi vi farò vedere. Montebello-Sussangro è un paese nuovo, composto dagli abitanti che una volta facevano parte di Buonanotte. Sono circa 80 abitanti, mentre Buonanotte, come ho detto prima, è un paese disabitato, abbandonato tantissimi anni fa, ma non ricordo quando, a causa di una frana che ha colpito l'intero paese e quindi gli abitanti sono stati costretti ad abbandonarlo e hanno ricostruito poco distante il paese nuovo, si chiama appunto Montebello-Sussangro. Bene amici, un saluto a tutti, un abbraccio virtuale a tutti, ci sentiamo più tardi. Ciao, ciao, ciao. 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 Ciao, ciao.